GF VIP 7, Ginevra Lamborghini, gli spartani sono dei pecoroni, io team persiani. Edoardo Tavassi? È un boss, non un leader. Ginevra Lamborghini, ex concorrente del GF VIP 7, è stata ospite di Casa Chi, il tol condotto da Sofiko Degoni. La sorella di Elettra Lamborghini, incalzata dai giornalisti, ha parlato ancora di Antonino Spinalbes e della promessa di portarlo a Pumezia. L'ho sempre visto come realmente, è una persona speciale per me ha detto Ginevra. Sottolineandolo ho conosciuto tre settimane e mi sembra di conoscerlo da un anno. Sono molto orgogliosa del suo percorso. Su Giorgio Ciupilani la sua recente dichiarazione di provare interesse nei suoi confronti. A seguire, ha detto la sua sull'ex coinquilina Antonella Fiordelisi. Ginevra ha invece cambiato idea in negativo su Alberto De Pisis. La Lamborghini parteggia apertamente per la fazione dei persiani, mentre non ha una buona opinione sui componenti del team spartani. Su Nikita Pelizzon, in particolare, l'ex concorrente ha detto, sento molto malumore quando si parla di Nikita. Spero di conoscerla meglio e capirci qualcosa anche io. Infine, una stoccata a Edoardo Tavassi, sul quale ha fatto una rivelazione. Sunt liberi sa fiu stapani pe ce fac si ce spun, stii? Nimic nu mai e la fel. Pupilaria s-a maturizat sever. S-a lovit pana acum de fel, de fel, de oameni, de păreri, anti pur de caracter. Si vad cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. tarina. Grazie.